Entrata nel cuore dei cittadini e se ti posso dire con orgoglio anche a libero nazionale. Visto come quest'anno abbiamo avuto chiamate e richieste di partecipare da parte di tutta Italia. L'ultima da Aosta, quindi avremo un carnevalò importante per la presenza, per i costumi e per la festa che il popolo di Ancona metterà in piedi. Sicuramente è un carnevale un po' particolare perché questa volta abbiamo preparato la ventunesima edizione in maniera pre-carnvalò. Il venerdì partiamo con il Salone delle Feste e con l'Auser che farà una festa insieme ai giovani di ieri, bellissima. Il sabato avremo un club importantissimo con Cristina D'Avena e tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie della nostra città che parteciperanno. Quindi un grazie ai dirigenti scolastici e se permettete un grazie di cuore all'assessore Burini che ha permesso questa collaborazione. Poi abbiamo il club con Cristina D'Avena. Sabato a Piazza Roma Cristina D'Avena farà il suo show e ci saranno tantissime persone. E poi domenica il carnevale, partiremo dalle Muse, arriveremo fino a Piazza Cavour, torneremo alle Muse e completeremo tutta la manifestazione a Piazza Cavour con le fontane danzanti. E quindi ogni maschera verrà premiata, ogni gruppo di maschera verrà premiata e poi la festa con le fontane danzanti sarà unica. Abbiamo anche organizzato, grazie a MP, i trenini che portano dagli archi al centro. Sono aperti gratuiti i parcheggi di Traiano, Cialdini e Archi. Circondati da Fantasia e Sogni in realtà, qual è il messaggio che mandiamo alla Cielo? Venite, venite, accomodatevi pure, tanto ormai siete i protagonisti. Prego, prego. Questo è un tocco di colore al volo perché il carnevale ogni scherzo vale. L'abbiamo scoperto qualche anno fa per un'iniziativa sempre del carnevale e devo dire che insieme abbiamo sempre collaborato, stavano dei ragazzi bravissimi, pieni di idee e di entusiasmo e più hanno la sede in un quartiere che io amo particolarmente, che è quello degli archi, quindi anche lì daranno un grande aiuto. Vorrei anche dire che noi, come assessorato alla partecipazione democratica, abbiamo messo in piedi i carnevali, collaboriamo con i carnevali dei quartieri. Non abbiamo perso questa tradizione, quindi ci saranno i carnevali sia giù ai quartieri nuovi, ai Moscati, Brecce Bianche, Colle Marino, Torrette e chi ne ha più ne metta. Ci siamo.